ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ciao oggi andremo ad aprire il puzzone seggio bocca di fogna l'ultima volta la puzza era stata atroce vedremo stavolta ma si capirà subito dal fatto se è unto oppure no se è unto puzza altrimenti no allora vediamo qui il personaggio qui l'immagine poi dopo le solite cose qui dietro la solita check list essendo la stessa serie è sempre tutto uguale sono del 2010 e andiamo ad aprire brutalmente come al solito via qui dietro facciamo aprire il fumetto e leggere la descrizione aspetta devo prima intanto io vi faccio vedere che questa qui è arancio non ce l'ho da aprire tu è certo il viso per famiglia no? questo qua invece non riesco a capire se è unto oppure no vabbè vedremo dopo nell'appelio quale oscuro male si cela mai all'interno di quelle gengive disastrate quando era ancora un moccioso la mamma lo sorpresa per annunciare parolacce irripetibili non dite parolacce per punizione gli sciacquò la bocca con due intere saponette per fare un dispetto lui fece voto di non lavarsi più i denti fino a quando lei non si fosse scusata con lui ciò è successo quattro anni fa assumendo la nuova identità di bocca di fogna lui si impegnò ad avere il respiro più micidiale del mondo e per farlo iniziò a trambugiare chili di frutta marcia cibo rancido scatolette vuote di cibo per gatti cioè si mangia proprio la lattina alberi completi di scoiattoli qualunque altra schifezza che potesse addentrare con le sue scure mandibule incrostate nonostante la sua bocca sembri una discarica a cielo aperto a un bel numero di amici tuttavia da quando il suo fiato ha bruciato le sopracciglia Jimmy puzza dei piedi nessuno ha più coraggio di sostenere un faccia a faccia con lui motto puzza in bocca allora quindi lavatevi i denti però che dentisti vanno finanziati poverini se no non si fa la piscina questa qui è l'immagine qui dietro il punteggio con la descrizione che avete appena sentito qui c'è il fumetto chi è la gilda? bah vediamo qui dietro non c'è ma chi è che puzza gli uomini che mica le donne? fiato di cane ce l'abbiamo e niente come al solito adesso andiamo ad aprirlo che è la cosa l'ho visto Jimmy puzza dei piedi vai che io intanto qua apro comunque si è untissimo per quanto tutta l'acquerede Jimmy puzza dei piedi insieme a pepe ascella infuocata e Nino Calzino vediamo vediamo puzza beh tutto fradicio puzza si sente fin qua ma è uguale a fiato di cane si vieni a nusare no no arriva fin qua nusa nusa arriva fin qua vieni dai che poi devo dare fuori l'ambi pure dai quindi questo qui è Gio bocca di fogna avete qua l'unto che c'era all'interno come vi ho detto scorsamente è solo quello non esitare basta che puzza me ne vado ciao per questo video è tutto fatemi sapere se volete vedere altri puzzones nel caso riesca a recuperarli iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ad un prossimo video ciao a tutti